Io sono Xaku, una creatura di frammenti, unita e pure divisa. Sono il risultato dell'innesto di tre warframe dimenticati, resi uno da un'energia proibita, il vuoto. Non appartengo né al passato né al presente, ma esisto tra le pieghe di ciò che è stato perduto e ciò che è ancora da scoprire. Il mio essere è un amalgama di potere antico e caos incontrollato. Ogni mia parte, ogni frammento che mi compone, porta con sé un frammento di storia e di abilità. Sono sia una reliquia che un'arma, un guardiano delle forze oscure del vuoto. La mia forza non risiede nell'unità, ma nella capacità di smembrarmi e ricompormi a piacimento. Quando mi frammento, non perdo me stesso, ma divento più imprevedibile, più difficile da affrontare. Le mie abilità mi permettono di manipolare il vuoto per confondere, distruggere e proteggere. Sono un enigma vivente, un warframe nato dalla rovina e dall'ignoto. In me si fondono gli echi di tre anime, ma la mia voce è unica. Mi conoscerai come un alleato temibile o un avversario imprevedibile, ma sempre come una forza che sfida ogni confine della comprensione.